Dal mondo della fotografia, il passaggio al mondo della musica è breve e quella prodotta da DJ come Matteo Ciccarini specialmente. Da quel momento in poi ebbero nelle loro mani e nel loro tocco creativo la colonna sonora degli eventi in passerella. Ogni brand, ispirandosi allo stile da Clubber, decise di avere una propria musica a firma della propria identità, affidando questa nuova categoria di compositori il compito di raccontarla a tempo di beat e sound design.